Putin mette in guardia la Nato, l'espansione militare dell'alleanza avrà conseguenze, la reazione del Cremlino dopo l'annuncio della Svezia di chiedere l'adesione, un passo che segue quello fatto nei giorni scorsi dalla Finlandia, raggiunto l'accordo per evacuare i feriti dall'acciaieria assediata. La crisi ucraina rischia di diventare globale, potrebbero essere possibili rivolte del pane in Asia, Africa, America Latina e l'allarme lanciato dalla Caritas di Kiev che fa il punto sulla situazione nel paese, una catastrofe umanitaria da 14 milioni di sfollati e 600 miliardi di dollari necessari per la ricostruzione. Dura condare da parte del patriarca di Gerusalemme per quanto accaduto all'esequio della giornalista di Al Jazeera con la polizia israeliana che ha fatto irruzione nell'ospedale cattolico di San Josef prima del funerale, è stata una grave violazione, ha detto Monsignor Pizzaballa. L'Italia deve istituire una zona infetta per la pese suina che comprenda varie aree del comune di Roma, lo dice la Commissione europea che chiede provvedimenti urgenti per fermare l'infezione. La politica è dialogo rispettoso, non negoziati ostili fra i partiti, il Papa incontra i membri della fraternità di Schoeman Neuf che incoraggia nell'impegno per migranti ed ecologia, serve un cambio di sguardo, aggiunge Francesco, se non avviene la politica rischia di trasformarsi in confronto violento per far trionfare le proprie idee. Buonasera e benvenuti al TG2000, anche la Svezia presenterà richiesta di adesione alla Nato, una decisione che provoca la reazione di Mosca all'espansione militare dell'alleanza, afferma Putin, scatenerà una risposta proporzionata alla minaccia. Federico Plotti La Russia reagirà all'ingresso della Finlandia e della Svezia nella Nato. La loro scelta è un errore di vasta portata, ha detto oggi il capo del Cremlino Putin, che avrà conseguenze di vasta portata. Nessun problema con i due paesi scandinavi, dice Mosca. Non la consideriamo una minaccia reale, ma reagiremo non solo politicamente a quanto sta accadendo. Helsinki, la sua domanda l'ha già formalizzata domani, potrebbe arrivare pure quella di Stoccolma. Il percorso d'ingresso sarà breve, dice il segretario generale Stoltenberg, ma devono ancora essere superate le resistenze della Turchia. Il presidente Erdogan resta ancora critico, ma non chiude del tutto le porte. In gioco c'è soprattutto il ruolo da mediatore nella crisi ucraina, che vuole Ankara, e la questione kurda con la Turchia, che accusa sia Svezia che Finlandia di dare protezione a esponenti del PKK. La Russia non può ricattare l'Occidente con il suo gas. Serve un tetto al prezzo di questo, dice il ministro degli esteri italiano Di Maio da Bruxelles. Intanto la NATO in Estonia, vicino al confine con la Russia, mostra i muscoli con la più grande esercitazione militare di sempre. Simulazione di guerra con 15.000 soldati dell'Alleanza. Esercitazioni anche in Italia, non solo in Sardegna, grandi manovre dall'Adriatico al Tirreno. Oltre 4.000 militari impegnati tra uomini e donne, provenienti da sette nazioni, 65 navi, sommergibili, aerei ed elicotteri. Tutto questo mentre in molte città ucraine si continua a combattere. A Mariupol è stato raggiunto un accordo per evacuare l'acciaieria di Azosal. I feriti verranno trasferiti in un ospedale dell'autoproclamata Repubblica Popolare del Donbass. Per gli aggiornamenti vediamo il servizio di Fabio Bolzetta. I soldati ucraini feriti, intrappolati nei sotterranei dell'impianto Azovstal, potranno uscire. È stato raggiunto l'accordo sull'evacuazione da Mariupol. Lo ha reso noto il ministro russo della difesa. Verranno trasferiti in un ospedale di Novo Azovsk nella autoproclamata Repubblica Popolare del Donbass. Mosca fa sapere che è stato attuato un cessate il fuoco nell'area dell'impianto. Una svolta nel braccio di ferro per la roccaforte della città portuale. Putin vuole catturare l'acciaieria, ha affermato un consigliere del governo ucraino. Colpi contro obiettivi della regione russa di Belgorod. Dopo che le forze militari ucraine hanno ripreso il controllo del confine con la Russia, in corrispondenza di Kharkiv, il governatore della regione russa, oltre il confine, Vyacheslav Gladkov, ha denunciato attacchi contro il villaggio di Sereda. Anche l'acqua come arma. Le forze ucraine hanno aperto una diga all'inizio dell'invasione nel villaggio di Demidiv, provocando l'allagamento del fiume Irpin. Una mossa che avrebbe impedito ai soldati e ai carri armati russi di sfondare le linee dell'Ucraina. I russi sono venuti a Kosarovici e volevano attraversare la diga, ma nella foresta c'erano otto dei nostri uomini. Non è chiaro chi abbia sparato per primo, ma è stata danneggiata la diga che ha allagato da allora quasi il 40% del villaggio. Altri colori arrivano da Dnipro. La colza, utilizzata come coltura fertilizzante, fiorisce in campi sinora salvati dal conflitto. Uno dei simboli della bandiera ucraina, ma anche un richiamo all'allarme sull'approvvigionamento alimentare del paese, aggravato anche dal blocco dei porti e, come ha denunciato il World Food Programme, dalle conseguenze globali. La crisi ucraina rischia di diventare globale. La scarsa produzione di cereali potrebbe mettere in ginocchio molti stati a rilanciare l'allarme e la Caritas, che oggi ha fatto il punto sulla situazione umanitaria nel paese aggredito dai russi. C'era per noi Paolo Fucili. E anche dobbiamo, nel contesto dell'aiuto umanitario, pensare come noi possiamo già formare nei cuori dei persone questo perdono per accettare la situazione quando, per esempio, papà è morto, quando la famiglia è separata. La guerra lascerà ferite profonde anche nelle anime. Intanto, aspettando la sospirata pace, la Caritas Ucraina non si ferma. La crisi umanitaria, col passare del tempo, si aggrava sempre più. Noi già forniamo cibo, alloggi, prodotti per l'igiene, ma crescerà anche il bisogno di supporto sociale e educativo. Appuntamento oggi a Roma con i giornalisti. La delegazione di Caritas Ucraina fa il punto sulla situazione, già illustrata ieri a Francesco, in mezz'ora di fitto colloquio. Lui ha tutti gli ucraini nel cuore, riferiscono, ma la situazione attuale, aggiungono, non gli permette un viaggio in Ucraina. 14 milioni di sfollati o profughi, cioè un ucraino su tre, 600 miliardi di dollari e la stima del prezzo della ricostruzione sono i numeri della catastrofe. Per fronteggiarla i paesi confinanti sono in prima fila. In Polonia sono 20 mila i volontari Caritas arruolati, 37 mila i profughi alloggiati in case private, ma attenzione avverte Caritas Internationalis. La crisi ucraina rischia davvero di diventare globale, col pericolo persino di rivolte del pane in Asia, Africa, America Latina. Col granaio d'Europa devastato infatti l'aumento del prezzo del cibo è insostenibile per i più poveri. Il Vangelo ci chiede di amare i nostri nemici, ricorda Papa Francesco che sottolinea come questo valga anche in politica. Dobbiamo vedere in colui con cui dialoghiamo un vero fratello, un figlio amato di Dio. La politica ha proseguito il Santo Padre rivolgendosi ai membri della Fraternità Chemin Neuf e un'arte dell'incontro. Rita Salerno. La politica è arte dell'incontro e non dello scontro, del dialogo rispettoso e non di negoziati ostili tra partiti. Con i rappresentanti della Fraternità Politica Chemin Neuf, Papa Francesco sempre in sedia a rotelle, chiede un cambio di passo per i cristiani in politica, che è incontro fraterno, azione e riflessione. Se tale cambiamento del cuore non avviene, la politica rischia di trasformarsi in un confronto spesso violento per far tionfare le proprie idee, in una ricerca di interessi particolari piuttosto che del bene comune, contro il principio che l'unità prevale sul conflitto. Se in politica occorre ricercare l'unità accantonando conflitti ed ideologie, nell'udienza con i rettori degli Atenei Laziali, Francesco invita le istituzioni universitarie a cogliere questa stagione caratterizzata dalla pandemia, dalle disuguaglianze e dal conflitto alle porte per avviare un grande investimento educativo. Per questo sta sviluppando il Global Compact Education, ovvero un progetto di lavoro comune su scala globale che convolge tanti interlocutori, dalle grandi religioni alle istituzioni internazionali, alle singole istituzioni educative. Mentre con i camigliani impegnati nel capitolo generale, Francesco chiede di farsi carico delle persone più vulnerabili in un tempo segnato da indifferenza ed individualismo. Non possiamo fare a meno del carissimo di San Camillo dell'Elli. Sta a voi dare mani, piedi, mente e cuori a questo dono di Dio. La votazione sulla pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul DL Ucraina bis si terrà domani. La decisione è perché il numero legale sarebbe mancato per la terza volta a causa dell'assenza e giovedì l'informativa di Draghi sugli sviluppi del conflitto. Alessio Orlandi. In attesa che il presidente del Consiglio Draghi riferisca giovedì prossimo in Parlamento sul suo recente viaggio negli Stati Uniti e illustri la posizione del governo sugli sviluppi della guerra in Ucraina, le acque nella maggioranza restano agitate. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede uno stop all'invio di ulteriori armi all'Ucraina e un nuovo voto sull'indirizzo di politica estera dell'esecutivo, non previsto però in caso di semplice informativa alle Camere, come farà il Premier. Anche il segretario della Lega Salvini, sulla scia dei grillini, spinge per fermare altre forniture di aiuti militari a Kiev ma in maniera più sfumata senza la minaccia di azioni parlamentari. Piano sostegno all'azione del governo invece da parte del PD che domani riunisce la direzione del partito per discutere dopo le divergenze delle ultime settimane anche sulle prospettive di alleanza con i 5 Stelle. Intanto oggi il ministro della Difesa Guerini è intervenuto al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica per illustrare il contenuto del terzo decreto interministeriale con la lista secretata dei nuovi armamenti da trasferire all'Ucraina. La lista delle armi è giusto che resti segreta per motivi di sicurezza nazionale e il decreto è in linea con le indicazioni delle Camere, fa sapere il presidente del Copasir, Adolfo Urso, a quanti chiedono maggiore trasparenza sull'invio degli aiuti militari a Kiev. Le ricadute della guerra si abbattono anche sulla nostra economia. Oggi la Commissione europea ha deciso di tagliare le stime di crescita dell'Italia. Il PIL dovrebbe scendere al 2,4% nel 2022 e rallentare all'1,9% nel 2023. L'inflazione sfiora il 6% nel 2022 e il nostro Paese sarà gravemente colpito dal brusco stop all'approvvigionamento di gas russo, si legge nel rapporto. Sono 13.668 i nuovi casi di Covid, 102 le vittime, il tasso di positività scende al 13% a fronte di una diminuzione dei contagi. Si discute se allentare le ultime restrizioni rimaste come quella dell'obbligo di indossare la mascherina nelle aule scolastiche. Marco Bergamaschi e a seguire Beatrice Bossi. Se molte misure antivirus sono state allentate, rimane l'obbligo della mascherina a scuola, un tema sul quale c'è un acceso dibattito. Rimuovere l'obbligo è la richiesta del sottosegretario dell'istruzione Rossano Sasso. Una richiesta spiega arrivata anche da tante famiglie che ci sollecitano tale misura per l'ultima parte dell'anno. Le mascherine a scuola sono inutili e credere il disagio per i ragazzi, dice poi la rete nazionale per la scuola in presenza. Sia lo stop alle mascherine in aula, anche dagli ordini ai medici, a patto di tenere le finestre aperte e mantenere l'istanziamento. Intanto da oggi cade l'obbligo in Europa delle mascherine in aereo, quindi nei voli e negli aeroporti dell'Unione, anche se usare la FFP2 è raccomandato a chi è costipato e alle persone fragili. A decidere saranno però le compagnie aerei, ma in Italia chi parte e arriva la mascherina dovrà indossarla fino al 15 giugno in base a un'ordinanza del Ministero della Salute che impone l'obbligo fino a quella data della FFP2 e in Germania dove tale obbligo permarrà fino al 23 settembre. Ha messo la mascherina in aeroporto e sull'aereo? Ah, sull'aereo sì, le ha messe perché sono arrivate dall'Egitto adesso. Io sono partito proprio pochi giorni fa, venerdì all'andata non serviva la mascherina, a ritorno sì. Le regole che dicono? Le conosce? Sull'aereo andrebbe indossato o no? In quest'anno non so ultimamente come sono, le dicono di no forse. Sì, vanno indossate, che io sappia. Non è più obbligatorio, o ancora forse dopo il 15, non lo so. Da oggi non si portano più, non si potrebbero portare più. Invece no, in Italia ancora è obbligatorio. E va bene, è meglio. Ma dici che in aereo va messa la mascherina? Sempre? La mascherina sì, sempre nei luoghi chiusi, fino a che sarà. Per andare in qualsiasi paese d'Europa? Certo, la prevenzione è sempre importante. Assolutamente sì. Perché è obbligatoria o perché preferisce? Preferisco, è obbligatorio o preferisco. Sì, è obbligatoria anche perché è più sicuro, non vorrei portare il virus a casa, la mascherina sull'aereo sì, ancora non è finita. Tutti i tempi pubblici la mascherina è obbligatoria. Fino a che giorno? Penso fino al giugno. Preparatissima, grazie. In Israele ancora tensioni per quanto accaduto durante l'esequio della giornalista di Al Jazeera, il patriarca latino di Gerusalemme per Battista Pizzaballa, duramente condannato all'invasione della polizia israeliana e l'uso sproporzionato della forza nell'ospedale San Joseph prima del funerale. La corrispondente, Alessandra Buzzetti. Una granata stordente esplode accanto a una partoriente appena al tempo di mettersi a riparo e la polizia fa irruzione nell'ospedale. Immagine ancora inedite impresse nelle telecamere di sorveglianza del San Joseph Hospital diffuse oggi dalla struttura sanitaria cattolica di Gerusalemme Est per denunciare lo spropositato uso della forza da parte dei poliziotti israeliani. Venerdì scorso, al termine della camera ardente di Shirin Abu Akleh, la giornalista palestinese uccisa nel corso di un raid israeliano a Genin. Tutto il mondo e noi per primi siamo rimasti sconvolti da queste immagini della polizia israeliana che attacca chi stava portando una bala con una salma dentro. Capiamo molto bene le esigenze di sicurezza che però non possono giustificare un atteggiamento così aggressivo. Di fronte alle telecamere col patriarca latino ci sono i rappresentanti delle chiese di Gerusalemme uniti nella condanna della violenza e nella solidarietà all'ospedale e ai familiari di Shirin. A spiegare cosa abbia scatenato i manganelli della polizia contro chi portava al feretro sono il direttore generale del San Joseph e il fratello di Shirin. La polizia mi aveva chiesto che non ci fossero bandiere palestinesi e slogan ma ho risposto che non ero nella posizione di controllare un funerale nazionale ma che ero sicuro che sarebbe stato pacifico. Il comandante israeliano ci aveva detto che non avrebbe permesso al corteo di uscire all'ospedale con la bara in spalla. Chi la portava non aveva né pietre né armi ma appena si sono mossi verso il cancello la polizia ha attaccato. Hanno voluto umiliare l'istituzione e porteremo avanti un'azione legale. La gente urlava spaventata, abbiamo aperto l'ingresso dell'ospedale per far entrare chi scappava dalle granate. Non avevano fatto nulla di male. Noi qui assistiamo tutti, cristiani, ebrei e musulmani. Siamo costruttori di pace. 13 feriti in un assalto che viola anche gli accordi tra Santa Sede e Israele. Il Stato di Israele si impegna a rispettare il diritto alla libertà religiosa e qui si tratta di una processione funebre dove questo diritto è stato violato in modo molto brutale. Andiamo nello Yemen dove per la prima volta si intravede qualche squarcio positivo nel paese di Lagnatio da un conflitto interminabile dopo sei anni. Un volo commerciale partito dalla capitale e da più di un mese non si combatte. timide speranze per una svolta in uno dei conflitti più sanguinosi del pianeta. Marco Burini E se una rondine facesse primavera? Per la prima volta dopo sei anni un volo commerciale è decollato da Sanaa, la capitale dello Yemen, in cui da otto anni si combatte una guerra civile tra i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, e le forze fedeli al governo appoggiate dai sauditi. Decine di migliaia di morti e feriti e un intero paese alla fame. Ma dall'inizio di aprile l'ONU è riuscita a ottenere una tregua e così decine di Yemeniti, tra cui alcuni pazienti che attendevano da anni cure mediche, hanno potuto imbarcarsi per Amman, in Giordania. Il volo rientra negli accordi della tregua che prevedono anzitutto lo stop ai combattimenti, specie i bombardamenti da parte dei sauditi che hanno fatto moltissimi morti. Ma è ancora troppo presto per vedere i risultati della tregua, dicono le organizzazioni non governative, come Medici Senza Frontiere, che gestisce 12 ospedali. Il problema è che la gente non ha mezzi per spostarsi, mentre gli sfollati sono milioni e hanno bisogno di tutto, cibo, medicine, cure psicologiche. E come sempre chi paga di più sono anziani, donne, bambini. Molti non vanno a scuola, i docenti non vengono pagati. Però c'è questo cessate il fuoco che adesso deve diventare un negoziato politico per chiudere la guerra e tornare alla pace. L'Arabia Felix, così chiamavano lo Yemen, se lo merita, come il resto del mondo. Si allunga la scia di sangue negli Stati Uniti in un fine settimana contrassegnato dal massacro nel supermercato di Buffalo, dove un diciottenne suprematista ha aperto il fuoco e ucciso 10 persone per motivi razziali, violenze, anche in una chiesa della California e in un mercatino di Houston. Il servizio di Caterina Dall'Oglio. Altre due sparatorie e altri morti negli Stati Uniti dopo la strage suprematista nel supermercato di Buffalo di due giorni fa che ha causato 10 morti e diversi feriti. Nel sud della California un sessantenne di origini asiatiche ha sparato in questa chiesa di Laguna Woods con un bilancio di un morto e quattro feriti. Le persone sono terrorizzate. In Texas, vicino a Houston, una lite fra cinque uomini si è trasformata in tragedia con due morti e tre feriti. La diffusione delle armi piccole e leggere in un anno ha provocato oltre 30.000 vittime in sparatorie in circa 100 aree metropolitane. Da quanti anni guardiamo statistiche che ci dicono che nei paesi dove le armi da fuoco sono più diffuse il numero di omicidi è nettamente maggiore. Quindi questo dato secondo me dovrebbe parlare da sé. Possiamo dirci anche che forse fino alla guerra in Ucraina il numero di persone morte per arma da fuoco all'interno di contesti urbani quindi nella vita quotidiana era maggiore rispetto a quelli prodotti dalle guerre. Gli Stati Uniti sono tra i paesi la cui popolazione è tra le più armate al mondo. Ci sono 89 armi ogni 100 abitanti. Abbiamo investito tanto tempo tante energie tantissime risorse economiche nello sviluppo di nuovi armamenti armi più leggere più silenziose più mortali e non abbiamo dedicato la stessa energia allo stesso tempo o neanche una parte di questo a studiare strategie di risoluzione non violenta dei conflitti. Giornata di sciopero dei magistrati contro la riforma Cartabia in dire la manifestazione la NM vediamo i motivi di questa protesta nel servizio di Pierluigi Vito. Una giornata di astensione dalle udienze per giudici e PM per cercare in vista dei decreti attuativi di modificare la riforma Cartabia dell'ordinamento giudiziario nel merino dell'agitazione promossa dall'Associazione Nazionale Magistrati innanzitutto il sistema di pagelle che valuterebbero il lavoro delle toghe. Noi le valutazioni le abbiamo vogliamo che siano migliorate non vogliamo che diventino il modo con cui un magistrato si senta intimorito impaurito e costretto a guardare ciò che avviene nei gradi successivi di giudizio per uniformare i propri comportamenti a quel tipo di scelta. Forti critiche sono state avanzate anche verso le norme che restringono ulteriormente la possibilità del passaggio tra le funzioni giudicanti e requirenti e verso il metodo elettorale del CSM che secondo il sindacato dei magistrati finirebbe per aumentare il potere delle correnti. Seppure le motivazioni di fondo raccolgano il consenso generalizzato della magistratura l'adesione allo sciopero odierno non è stata unanime secondo il presidente della NM Santa Lucia sarebbe poco oltre il 60% in base agli ultimi dati elaborati ma in realtà significative come il tribunale di Milano si è rimasti sotto al 40% su 250 magistrati hanno partecipato 91 di cui 53 sono rimasti a lavorare per garantire lo svolgimento del servizio. E se il GIP di Milano Guido Salvini giudica positivamente la riforma cartabia a fronte dei guasti emersi nella magistratura negli ultimi anni il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo definisce inutile e inopportuno lo sciopero ma stigmatizza un disegno di legge che appare ispirato da una logica punitiva nei confronti delle toghe. L'Italia istituirà immediatamente una zona rossa a Roma contro la peste suina africana dove applicare tutte le misure di contenimento previste e da dove non vengano esportati suini verso gli stati membri e paesi terzi e la decisione prevista dalla Commissione Europea è pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione il servizio all'ora di Alessandra Camarca. Arginare la peste suina è diventato urgente i casi riscontrati nel nostro paese 117 Liguria e Piemonte e Sene e Lazio hanno spinto l'Unione Europea a chiedere l'istituzione di una zona rossa in nostro paese si legge nella decisione di esecuzione della Commissione Europea relativa ad alcune misure di emergenza contro questa patologia deve provvedere a distituire immediatamente una zona infetta in relazione alla peste suina africana che comprenda varie aree del Comune di Roma la decisione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed indica nel dettaglio le zone dell'area di Roma interessate da parte sua l'Italia ha già pronto un piano di eradicazione del virus condiviso con la Regione Liguria e l'ISPRA che prevederà anche l'abbattimento selettivo di alcuni capi di cinghiali intanto sottolinea Andrea Costa stato segretario della salute tra oggi e domani sarà firmata l'ordinanza del commissario sordinario che situirà la zona rossa di Roma e regolamenterà le restrizioni e le attività che si potranno svolgere all'interno della stessa Costa ricorda anche che la peste suina non rappresenta un rischio per la salute dell'uomo o degli animali domestici colpendo solo i suini occorre finalmente introdurre misure nazionali di eradicazione del cinghiale nelle aree dove sono sviluppate attività di allevamento di suini questo per evitare la grave compromissione e la continuità dell'attività di allevamento torna in pubblico la regina Elisabetta che ha assistito allo spettacolo organizzato nel quadro delle celebrazioni per il giubileo di Platino grande l'entusiasmo dei sudditi che l'hanno accolto in maniera calorosa al suo arrivo accompagnata dal figlio Edoardo Barbara Masulli un'assenza rumorosissima quella della regina la scorsa settimana quando all'apertura dei lavori del Parlamento Elisabetta II è stata rappresentata dalla corona appoggiata su un tappeto rosso e dorato e da suo figlio erede al trono Carlo neanche il tempo di abituarsi alla sua mancanza che è tornata sulla scena mostrandosi al pubblico ben due volte in pochi giorni in occasione degli eventi che a Windsor hanno dato il via alle celebrazioni del giubileo di Platino la prima apparizione tre giorni fa la competizione equestre che più ama da sempre la seconda ieri sera lo show condotto da Tom Cruise sorriso smagliante quasi ringiovanita nonostante l'ormai inseparabile bastone mantella grigio perla abito sul celeste a suo fianco il figlio Edoardo mentre Carlo è volato in Canada per una visita ufficiale al posto della madre standing ovation per sua maestà applausi per l'artista hollywoodiano che ha ammesso la propria adorazione per la regina la sua dignità la sua devozione la sua amabilità ha detto l'attore sono note in tutto il mondo apre a Torino in piazza San Carlo nella sede storica di Intesa San Paolo il quarto museo delle gallerie d'Italia dopo Milano Napoli e Vicenzo un hub culturale con un percorso espositivo di 10.000 metri quadrati su cinque piani dedicato alla fotografia e al barocco qui si terranno mostre temporanee con i capolavori di fotografi di fama internazionale Luciano Piscaglia un percorso espositivo di 10.000 metri su cinque piani di cui tre sotterranei e lo sviluppo della nuova galleria d'Italia aperta a Torino nella sede storica di Intesa San Paolo un progetto che ospita circa 50 opere delle collezioni d'arte dell'istituto bancario tra cui il ciclo pittorico dell'antico oratorio della compagnia di San Paolo e i 7 milioni di scatti fotografici dell'archivio Publifoto innanzitutto il completamento di un progetto nazionale che guarda l'Europa e che affianca la valorizzazione dell'arte e della cultura attraverso la fotografia e la forza dell'immagine i grandi temi la grande attualità dai cambiamento climatico all'economia circolare all'inclusione alla rivoluzione tecnologica arte classica e fotografia insieme un investimento in cultura e storia in un progetto di alto livello tecnologico noi abbiamo presentato questo progetto quattro anni fa da allora c'è stata prima la pandemia e adesso questa guerra questo ha creato qualche problema nella realizzazione dei lavori ma ce l'abbiamo fatta abbiamo rispettato i tempi l'obiettivo è aggiungere ai poli già esistenti delle gallerie d'Italia questo di Torino che sarà senz'altro uno dei più importanti la nuova galleria d'Italia di Torino è infatti il quarto museo di intesa San Paolo dopo quelli di Milano Vicenza e Napoli la nuova sede di quest'ultimo sarà inaugurata tra pochi giorni bentornati in studio Elisabeth Bourne sarà la prima donna a guidare un governo francese dopo 30 anni lo ha sottolineato l'Eliseo annunciandone la nomina poco fa l'unica finora ad aver ricoperto questa carica è stata la socialista Edith Cresson è tutto il TG torna alle 20.30 ora il meteo e poi la Santa Messa buona serata Grazie a tutti